Cari lettori, dal 15 di gennaio si sono aperte le iscrizioni al nostro quarto convegno che Scienze Sport in collaborazione con il Nuovo Calcio organizza a Milano all'Hotel Melià sabato 16 marzo. Quest'anno il titolo è direi molto interessante, l'allenamento metabolico nel calcio dalla corsa continua agli small side game, un titolo che racchiude e farà una panoramica su tutte le metodiche che si sono avvicendate in questi anni per l'allenamento del calciatore. Le modalità di iscrizione al convegno sono molto semplici, il convegno di fatto è gratuito, bisogna andare sul sito di Scienze Sport o il Nuovo Calcio, cliccare nel banner dedicato, compilare il form, scegliere il libro da acquistare perché l'unico tra virgolette vincolo è quello acquista un libro, partecipa gratuitamente al convegno. In occasione del convegno verrà presentato il libro l'indispensabile numero 17 dal titolo Small Side Game numero 2, gli autori Italo Sanicandro e Giacomo Mucofano e questo libro è la continuazione del numero 2, dell'indispensabile numero 2 che è uscito qualche anno fa. Vi aspetto numerosi come già successo nelle edizioni passate.